Il fatto di Stacchio è che una persona sia costretta, perché lo stesso Stacchio non è che si diverta ad andare in giro a fare il pistolero per le proprie città, ma sia costretta, perché evidentemente non è difeso dallo Stato e perché evidentemente sono lasciati liberi due Rom con il Kalashnikov. Di andare a mettere a retentaglio la vita di persone che stanno semplicemente facendo il loro lavoro è un problema dello Stato. Su questo, se noi non affrontiamo questo problema, il problema non è di chi denuncia questi fatti, ma è il problema di chi non cerca di risolverli politicamente. Quando Freccero parlava della crisi, non si può imputare a chi denuncia la crisi e le mancate risposte, alla crisi la colpa, ma chi quelle risposte non le dà. Se c'è il 13% di disoccupazione generale, quasi il 13% massimo storico, quasi il 43% di disoccupazione giovanile, non si può dare la colpa di chi denuncia questo disastro del Paese. No, 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 è vero. Però quando tu hai una situazione sociale così disastrosa, la retorica dell'armiamoci, armiamoci, armiamoci, mi scorse, non è esattamente quella più distensiva. Guardi che non ricordo una parola di Salvini, né tanto meno mia né di qualcun altro, che ha detto andate in giro tutti col fucile. No, in giro no. Anzi, a casa. Se uno entra per fare del male alla mia famiglia, non può pensare che venga colpevolizzato quello che cerca di difendere la propria famiglia, se non c'è lo Stato che impedisce questi atti.